Ben ritrovati dall'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Il galoppo ritorna in pista dopo un breve stop sabato 8 maggio. Lo fa con sei corse in programma dalle ore 14.30 aperte dalle due competizioni con maggiore dotazione. Il premio Saffo, una bella condizionata, e il premio Alceo, una debuttanti. Piccolo stop che ha continuato a far preparare gli atleti qui a Siracusa e che magari qualcuno ha gradito una piccola pausa sulle piste. Andiamo però con gli addetti ai lavori ma soprattutto a vedere quelli che sono i protagonisti delle varie competizioni. Apriamo con la prima, premio Saffo, una condizionata da 11.000 euro di Montepremi, breve la distanza, 1.200 metri in pista piccola, per cavalli di tre anni oltre. Sono quattro soggetti al via, ci vediamo la schermata, Rocca o Festonia capace di imporsi, l'ultima una forma calante ma resta da tenere sott'occhio, Dorc, il positivo e il regolare, e Bresbury Park che è sempre sul podio. Bungal Experience forse avrà vita più difficile, l'ultima non brillante peraltro. Ne abbiamo parlato con Antonino Cannella, mister effantino di Bresbury Park. L'ultima sul tracciato in sabbia non ha brillato tantissimo, però nei lavori mattutini il cavallo si è visto che sul tracciato in sabbia non la gradisce tanto. La penultima sull'erba la vince, il cavallo sta bene, secondo me c'è una buonissima chance. Da non sottovalutare la compagnia, come Rocco Festonia all'ultimo corre malissimo, ma è un cavallo che ha fatto vedere di sapere andare forte. E Docker, mai da escluderlo, è un cavallo sempre pericolosissimo. La seconda corsa è una debuttante, 1200 metri da affrontare per la prima volta per le femmine di due anni impegnati. Sono sei alla via, non ci sono punti di riferimento per questi sei nuovi atleti. Naturalmente c'è tanto attesa da parte delle scuderie che preparano le giovani speranze. Ne abbiamo parlato sia con Valentino Ficara che è presente a Bright Fontaine e Princess Josephine, e con Antonino Cannella che intanto sceglie mai subiti rispetto a figli off Malta. Bright Fontaine con quale speranze? Ma non abbiamo avuto tantissimo tempo, però si sono mosse bene, due gavalline precoci. Bene sia Bright Fontaine che Princess Josephine, speriamo in un buon debutto. Le voci di scuderia chi vi fanno temere? Ma guarda qua si parla bene di questa di Postiglione, ma penso anche di quelle di Cannella. Dovrebbe essere una debuttante abbastanza carina. Aperta e incerta? Sì. Le cavalli stanno benissimo, sicuramente sono tutti debuttanti la prima volta, si troverà meglio quello che sarà un po' più pronto. Noi ci speriamo perché nei lavori non sono andati malissimo. Gli altri voci dicono che questa qua è il numero, il numero, il numero, il numero. Cinque, dice che è una cavalla che va molto bene e dovrebbe essere una delle favorite della corsa. Poi gli altri non li conosco. La terza competizione è il premio Iliade, una corsa sui 1200 metri in pista piccola, è un handicap che si sviluppa con cavalli di tre anni, sono nove soggetti al via. Leggiamo il campo partenti. Hanwood che prova ad accorciare per farsi rivedere. A marzo aveva fatto una bella vittoria su Uncertain Distance e Wakanda Bow. Una Wakanda che poi ritorna a vincere sempre su lunga distanza e accorcia. Poi il numero due di Jigs Princess, ormai affidabile da due competizioni, in progresso dato apostrofo. Quindi il numero sei di Secret Tour di mezzi malterno. Magia dei sapori che si è ritrovata bene sulla pista siracusana e rientrata bene. Una novità è il numero otto dello schieramento e dall'opaco rientro anche Alka Valentine. E noi parliamo con Valentino Figara. È stata ferma un po', ha avuto piccoli problemi, li ha risolti. È un po' adattata secondo me a 1.200, però nella categoria 1 a 3 anni, pochi chili potrebbe dire la sua anche lei. Che handicap è? Ma è un handicap comunque incerto. C'è chi ha un po' di forma e ha tanti chili e c'è chi non ha tanta forma. Chi sceglierebbe? Ma io tengo sempre la mia. La quarta corsa è una vendere, il premio Omero. Sono dieci soggetti di tre anni e oltre che frequentano questa competizione. 2.100 metri in pista piccola da affrontare con dieci soggetti al via. Apre Blue Bob che vince il 10 aprile sulla stessa distanza. È in linea En Blu Amois che si trova meglio su più lunghi metri. Dr. Cresi ancora poco in carriera. Give a break è una novità da valutare, così come una novità è il numero 7 dello schieramento. Poi c'è Laguna Drive che non ha bisogno di presentazione, è un cavallo che sicuramente alla sua chance ritorna a vendere. Poco alla prima per il numero 7 dello schieramento. Degli altri tre piace Tell William. Proviamo a chiederlo a Valentina Ufficara cosa ne pensa di questa competizione. Lui che è impegnato con due soggetti, Dr. Cresi, Mblu Amois e ancora un altro soggetto che è Laguna Drive. E Antonino Cannella invece che è impegnato in sella a Blue Bob. Allora, Dr. Cresi sta cercando la qualifica con tre anni per cercare di adattarci un pochettino a questo programma che va scarseggiando verso la fine della riunione. Laguna Drive non ha bisogno di presentazione, il cavallo sta bene, va bene. E abbiamo visto che allungando un pochettino la distanza si è mossa bene anche Mblu Amois, ha le sue chance anche lei. Gli altri avversari? Ma hanno sempre quasi corso tutto insieme, Blue Bob, il cavallo ottenibile sarebbe questo Tell William che scende per la prima volta e si declassa, ma vanno molto bene anche i nostri due. Blue Bob vince il 10 aprile su sesta distanza in linea con Mblu A. Sì, l'ultima vince sicuramente ora c'ha più peso, però l'ultima ha vinto bene e secondo me il cavallo può correre bene di nuovo. C'è L'Use Moua, l'ultima non ha corso benissimo, però è un cavallo che ha buoni mezzi. Laguna Drive è sempre un cavallo che è sempre al palo. E il De William, il numero 9 che scende di categoria, secondo me c'è la prima chance. Premio di sé alla quinta competizione, un handicap sul miglio in pista grande, 13 soggetti al via, sono cavalli tre anni e oltre, apre il numero 1 di Common Black, alterno e allunga. Nonno Alfonso, bene in aprile, ma è Big Gift che è comunque tra i primi e va per una piazza. Non riesce, El Tabal, a ritornare sui suoi standard. Vince invece Rusal, che si farà sicuramente protagonista. Rientra Calalù, poco per il numero 7, da marzo poco anche per Ampner Red. Alla prima Maluccio, Mexico Point, quindi non brilla ancora River Jordan. Sishon Ter, da dicembre non concretizza, ma un soggetto che è sempre atteso. Opachi rientri per Sam Iem e Tutlove nel gruppo. Al rientro, poniamo un punto interrogativo, chissà saprà sfruttare il pensino. Anche su questa corsa sentiamo Mr. Ficar, impegnato con Common Black, e Antonino Cannella, che invece sarà alla guida, appunto, alla regia di El Tabal. Common Black, alterno, allunga? Sì, sì, secondo me anche lui è arrivato un po' il momento di allungare. Cavallo alterno, è vero. In queste categorie ha sempre corso benino. Secondo me potrebbe far bene anche lui, ha sempre un po' tanti chili, non sono facili da portare. Scegliamo qualche cavallo per un sistema? Ma, non Alfonso mi sembra che si sta muovendo bene. Rosalca ha appena vinto, lui, anche My Big Gift potrebbe anche... El Tabal, è brutta l'ultima, però è anche lui un cavallo che in questa categoria può dire benissimo anche la sua. El Tabal che non riesce però a emergere in questo periodo. Sì, il cavallo sicuramente può correre bene in questa compagnia, non è un cavallo che sa vincere tanto. La compagnia è abbastanza aperta, sicuramente uno dei favoriti è il numero 5, Rosalca, che all'ultima vince benissimo. Poi, non Alfonso, che all'ultima corre bene, è il numero 1, Common Black. Premio Simonte, la sesta competizione, un handicap, abbinata all'Ippica nazionale, 1800 metri in pista sabbia da affrontare, per i tre anni oltre impegnati e sono dieci al via nel campo partenti, pesantissimo domestic kart, 72 kg rispetto al resto della compagnia, Spiritara è l'altra occasione di Valentino Ficara e l'Alca Torre di Canicarau, che peraltro si è messa in luce come scuderia nel mese di aprile, vincendo molto di più rispetto agli altri. Ultima poi Spiritara con una vittoria che ha mostrato sicuramente tanto orgoglio, ora però prova il Dert. Calante, voice of love, ma potrebbe starci, alterno sensazione, poi anche lui potrebbe andare per una piazza. Principe Azzurro ha una grossa occasione per mostrare la sua qualità, ma dovrà adattarsi alla sabbia. Approve the dream, non raccoglie, ma è pronto, sta lavorando bene, rientra sopra Nercole, prova sul Dert a ritrovarsi anche Tesan, rientra a Road of Mexico e sopra Furia vince l'ultima con stile e proverà a ripetersi sfruttando la perizia di questo handicap. Incora una volta sentiamo Valentino Ficara impegnato con i primi due soggetti dello schieramento e Antonino Cannella che presenta invece Approve the Dream. Domestic è pesantissimo, Spiritara invece è stata una vincitrice, ma sul Dert? Ma sul Dert la mattina si muove molto bene, certo il pomeriggio è tutta un'altra cosa, la Gala finalmente ha trovato la vittoria, sembra che ha cominciato ad adattarsi bene al percorso, ci speriamo, non è una corsa facilissima, però vediamo di che pasta è fatta. Da chi vi dovrete difendere? Ma anche qui Approve the Dream, sopra un Furia appena vinto, dando via tanti chili, Walsh of Love se si ritrova magari sulla sabbia, sensazione poi, anche qui una corsa aperta, è un handicap ben riuscito anche questo qua. Intanto in bocca al lupo? Grazie mille Crepi. Anche perché siete una scuderia che ha vinto il maggior premio ad aprile, quindi vuol dire che è un momento di gloria. Sì, stiamo attraversando un buon momento, speriamo che duri. Come inserisci Approve the Dream in questo contesto? Guarda, lui il tracciato in sabbia lo gradisce, secondo me può essere un filo lungo, però il cavallo sta bene e ci proviamo. La compagnia non è facile, come Spiritara all'ultima vince bene e secondo me anche se c'è 63 e mezzo c'è la primissima chance. Principe Azzurro è un cavallo che in queste compagnie può dire sempre la sua e il numero 10, sopra un Furia, ben messo a peso, c'è la buonissima chance. Non mi resta che ricordarvi l'appuntamento, il galoppo ritorna sulle piste dell'ipodromo del Mediterraneo sabato 8 maggio, ventesima giornata che inizierà con le corse con maggior dotazione alle ore 14.30. Arrivederci.